Benvenuti ragazzi e bentornati sul nostro canale. E buon anno nuovo a tutti! In questo primo video del 2021 volevamo raccontarvi proprio passo passo come settiamo i nostri obiettivi, raccontandovi proprio il procedimento che ci ha permesso di rendere tutto molto più stimolante ma soprattutto di raggiungere gli obiettivi che ci eravamo prefissati. Una delle prime cose che abbiamo imparato è che gli obiettivi e il modo in cui li stiliamo devono avere alcune caratteristiche per essere raggiunti altrimenti non funziona. Infatti è inutile prefissarsi degli obiettivi se sappiamo già in partenza che saranno praticamente irraggiungibili però non sto qui a farvi degli esempi entriamo subito nel dettaglio e per farlo parto con una bella lista. Si dice che gli obiettivi devono essere SMART. SMART è proprio un acronimo dove S sta per specifico infatti la prima cosa da fare importantissima è scrivere il proprio obiettivo nel modo più specifico possibile. Il classico esempio è quello del fare più attività fisica no? Se nella lista scrivo vado a correre rende l'obiettivo troppo generico ma scrivere fare attività fisica ogni due giorni è già totalmente un'altra cosa. Infatti siate il più specifici possibile perché è il primo passo per capire esattamente proprio il percorso da fare per raggiungere gli obiettivi che vi siete scritti. Poi c'è la M dove la M sta per misurabile e c'è una frase che ad Andrea piace moltissimo che è solo ciò che è misurabile e migliorabile. Come facciamo a migliorare qualcosa se non sappiamo neanche da che punto partire? Vi faccio un esempio per quanto riguarda la selezione delle immagini che è una delle cose che faccio principalmente selezione e editing. Prima di cronometrarmi non avevo assolutamente un'idea precisa di quanto tempo impiegassi a selezionare le immagini di un matrimonio o di un servizio fotografico. Vero? Vero. Poi l'aria un giorno mi ha fatto una domanda che sembrava banale ma che alla fine mi ha permesso di ottimizzare tantissimo al massimo questa parte cioè quanto tempo stai a cernitare un matrimonio che stupidamente era una domanda che non mi ero mai fatto. Da lì in poi ad ogni servizio fotografico ho iniziato a misurarmi e a prendermi tempi e ovviamente a segnarmeli. Adesso so che per il mio modo di lavorare per il mio cervello la mia media è di un'ora per 5.000 foto e più o meno cado sempre lì cioè questa è la mia media. Questo dato mi ha permesso di organizzare le mie giornate quando sto lavorando su matrimonio perché so che se ho scattato ad esempio 10.000 foto sto esattamente due ore a fare la selezione e funziona. Questa cosa mi ha anche permesso di migliorare e di capire se in quella giornata ero più o meno produttivo se aveva senso continuare a lavorare o magari fare altro. Insomma ho avuto solo risvolti positivi. La lettera successiva è la A che indica l'accessibilità dell'obiettivo cioè l'obiettivo che vi siete scritti nella vostra lista obiettivamente è raggiungibile oppure già ve lo vedete scritto nella lista dei buoni propositi dell'anno dopo. Settarsi degli obiettivi accessibili ha un forte impatto sulla motivazione perché se non raggiungerete quello che vi siete prefissati sicuramente lo stato d'animo non è che sarà dei migliori. E settarsi degli obiettivi raggiungibili poi ha anche un doppio effetto perché non solo si diventa felici di aver raggiunto quell'obiettivo specifico ma questo ci dà anche una spinta in più per raggiungere tutti gli altri obiettivi che ci siamo prefissati perché nella nostra testa penseremo se ce l'ho fatta con questo posso raggiungere anche l'altro obiettivo. Infatti non sottovalutate l'importanza della motivazione perché è in grado di farvi fare cose incredibili. Il prossimo punto, la prossima lettera è la R dove R sta per rilevante. Cosa significa? Per capire se un obiettivo è rilevante o meno basta chiedersi è in linea con i miei valori e con gli obiettivi più ampi a lungo termine? Faccio un altro esempio, io faccio solo esempio. Voglio aumentare la mia produttività. So allora che dovrò eliminare ogni distrazione mentre sto lavorando e che dovrò essere focalizzato su quel compito per un certo lasso di tempo. È proprio un lavoro a ritroso. Se so esattamente il motivo per cui quell'obiettivo è importante per me allora so anche tutto il procedimento a ritroso da fare per raggiungerlo. L'ultima lettera è la T che secondo me è la lettera forse più importante anzi anche credo anche secondo Andrea. In questo caso parliamo di tempo. Avrete ormai capito che Ilaria ed io siamo fissati col tempo. Se guardate gli altri video sul nostro canale vedrete subito che è un argomento ricorrente che ci sta particolarmente a cuore perché il tempo è l'unica cosa che non si può comprare e che non ci viene tonata indietro se la perdiamo. Fissarsi delle tempistiche entro cui completare quell'obiettivo ha solo vantaggi. Per prima cosa ti motiva perché sai che hai una scadenza entro cui raggiungerlo. Poi aumenta la produttività perché sai di non poter perdere tempo e per ultimo ottimizza automaticamente il tempo all'interno delle tue giornate. Fantastico e fin qui abbiamo raccontato quali sono proprio le caratteristiche dei nostri obiettivi come li stiliamo. Ora vi spieghiamo proprio come li impostiamo sulla nostra lista. Prendere tutto più comprensibile abbiamo creato la guida ve lo ripeto lo potete trovare qui sotto in descrizione la potete scaricare iscrivendovi tranquillamente alla newsletter vi lasciamo tutti i collegamenti. Vedrete che quello che diciamo in questo video abbinato al file che scaricherete renderà tutto estremamente più facile e comprensibile. Abbiamo diviso la guida in quattro parti la prima riguarda un'occhiata in generale sull'attività la seconda riguarda la parte economica la terza il servizio offerto e la quarta gli obiettivi per questo 2021. La prima e la più importante cosa da fare se avete già un'attività come fotografi è pensare all'anno che è appena trascorso. Non sarà stato l'anno che sognavate però vi assicuro che vi aiuterà a settare i vostri obiettivi per il 2021. Se invece siete dei fotografi che inizieranno la propria attività quest'anno questa guida sarà un ottimo punto da cui partire per stabilire i vostri obiettivi. Pensando all'anno che è appena trascorso concentratevi sulle cose che hanno funzionato e su quelle che invece sono da migliorare. Questo vi aiuterà a focalizzarvi sugli aspetti su cui iniziare a lavorare sin da subito. Poi pensate anche a come avete usato il vostro tempo ci sono margini di miglioramento se sì in quali campi pensate proprio all'intero vostro workflow e a tutte le fasi che lo compongono proprio. Dove in quale parte di questo workflow si può andare a migliorare? Questa prima parte della guida è davvero importantissima perché in un anno accadono davvero una marea di cose ed abbiamo la fortuna e la possibilità di andare a guardare un anno intero della nostra attività quindi che è appunto quello che è appena trascorso e che può dirci una marea di cose sia quelle che hanno funzionato sia quelle che non hanno funzionato. La seconda parte poi riguarda l'aspetto economico che è sicuramente un aspetto da non tralasciare per ovvi motivi. Per avere una visione di insieme di questa parte ci focalizziamo su tre aspetti principali. Qual è la montare delle entrate? Quanto abbiamo speso per mandare avanti l'attività? E quant'è il profitto finale? Una visione simile vi aiuta anche a capire se certe spese possono essere ottimizzate o addirittura eliminate come ad esempio software che non usate. Se avete guadagnato quello che vi aspettavate oppure no. Insomma apre le porte davvero a tantissime riflessioni e ragionamenti. La terza parte parla del servizio che viene offerto anche qui cerchiamo di essere super precisi con gli obiettivi e quindi di pensare a quanti servizi fotografici voglio fotografare in quest'anno, a quali prodotti offro, quale servizio, quale prodotto è quello più richiesto. Sono aspetti molto importanti per capire proprio su cosa focalizzarsi e se è il caso di adeguare magari il prezzo di determinati servizi piuttosto che di altri. E poi c'è l'ultima parte che è una specie di mega riassunto che comprende sia gli obiettivi di entrate, sia i tipi di servizi su cui si desidera concentrarsi e gli obiettivi di tempo quindi quante ore voglio lavorare e per quanti giorni. Ma comprende anche obiettivi per quanto riguarda i social o per quanto riguarda la parte relativa alla formazione quindi eventuali workshop o corsi. E poi c'è la parte che preferisco ossia come voglio sentirmi a fine anno perché fantasticare un po' su questo punto vi assicuro che è davvero fantastico. Troverete tutta la motivazione di cui avete bisogno per iniziare a riempire questa lista. Piccolo consiglio finale per chi è come me e purtroppo per noi visualizza tutto questo come un unico blocco insormontabile di cose da fare. Dividetoli in blocchi. So che è l'uovo di colombo ma funziona perché è impensabile riuscire a fare tutto contemporaneamente. A volte si viene sormontati da questa idea e quindi non si vanno avanti né indietro. Per questo abbiamo diviso gli obiettivi in quattro quarti. Nell'anno ci sono 12 mesi concentriamoci in questi quattro blocchi e dedichiamoci ai diversi obiettivi che ci siamo prefissati. In questo modo è molto più semplice concentrarsi e portare a termine un obiettivo perché si pensa solo a quello e non a tutto insieme contemporaneamente. Altrimenti va a finire che si fa. Un po' tutto è male. E siamo arrivati alla fine. Speriamo davvero che tutto questo video possa esservi stato d'aiuto per soprattutto sia stilare i vostri obiettivi sia per raggiungerli perché quest'anno deve essere incredibile. Se poi siete alla ricerca di un luogo in cui confrontarvi in cui trovare magari idee e risorse utili allora vi lascio sempre qui sotto il link al nostro gruppo Facebook dedicato ai fotografi perché vi aspettiamo anche lì. Ragazzi fateci sapere se questo video vi è stato utile con un like. Se non l'avete ancora già fatto iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi! Ciao! 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 Grazie a tutti.